open week sulla salute al femminile dall'undici al diciotto aprile all'irca di ancona l'irca come ogni anno vicina alla donna questo è appunto lo slogan ci sono diversi appuntamenti tra cui quello del sedici aprile dalle nove alle dodici presso l'ambulatorio nutrizione clinica con visite dietologiche e nutrizionali insomma con consigli dietetici anche per prevenire le malattie croniche dell'anziano in particolare la sarcopenia soprattutto per quanto riguarda la donna dopo la menopausa ne parliamo con il dottor paolo orlandoni responsabile dell'unità operativa nutrizione clinica dell'irca di ancona noi svolgeremo la nostra attività ambulatoriale per le pazienti che lo anzi soggetti femminile che lo richiederanno facendo la valutazione dello stato nutrizionale quindi misurando il peso corporeo l'altezza calcolando l'indice di massa corporea che è il rapporto appunto tra peso ed altezza e valuteremo anche lo stato nutrizionale tramite una bioimpedenziometria che ci permette di valutare anche la massa muscolare che nell'anziano è molto importante perché rappresenta il tessuto che permette la mobilità di mantenere la mobilità che una delle componenti fondamentali per mantenere uno buono stato di salute come si svolgeranno queste visite appunto verrà fatta innanzitutto un'anamnesi del diario alimentare cioè di come il soggetto è abituato a mangiare in termini di quantità ma soprattutto di qualità proprio perché le necessità con l'avanzare dell'età sono diverse dal punto di vista nutrizionale dobbiamo distinguere quella che è l'alimentazione dalla nutrizione perché la nutrizione si occupa proprio di soddisfare quelle che sono le necessità di tutti i nutrienti quindi macronutrienti soprattutto le proteine ma anche dei micronutrienti che in età avanzata possono essere carenti e invece avere un'importanza fondamentale per mantenere appunto il buono stato di salute 80 ospiti, 17 location, 18 appuntamenti per bambini, 37 con l'autore e 10 tra spettacoli, performance e mostre 46 case editrici per la fiera Marche Libri questi sono solo alcuni dei numeri della nona edizione di Macerata Racconta un'edizione che ha come tema dominante le derive abbiamo scelto questo tema perché sentimenti come la rassegnazione, la sfiducia, la rabbia, il rancore sono sempre più diffusi e servono per raccontare il presente ma il presente non è nient'altro che il frutto della nostra determinazione per cui avere coscienza del proprio cammino è il primo passo, la prima condizione necessaria per percepire un possibile naufragio a cui verso questi sentimenti ci stanno trascinando particolare attenzione è rivolta al mondo della scuola con 400 studenti coinvolti per il premio Macerata Racconta Giovani ed altri 200 che hanno frequentato i laboratori di lettura e scrittura a Macerata e Recanati insomma un'edizione dai grandi numeri e soprattutto dai grandi ospiti sono Carlo Lucarelli, Enrico Mentana, Simone Tagnello Orbi con la nuova tappa del nuovo tour e un'anteprima nazionale molto importante per la prima volta abbiamo un ospite internazionale che è Giun Palairi scrittrice bengalese di origine ma vive negli Stati Uniti e scrive in italiano che verrà a presentare la sua nuova antologia ai racconti dedicata alla letteratura italiana poi ci saranno Marco Missiroli, Teresa Ciabatti, Rosella Postorino, premio Campiello 2018 Loredana Lipperini e tanti altri